Canotto al limite dell'area di rigore, alza il pallone al centro verso Menes, anticipato, Vizchi arriva, sparte il tiro, grande intervento, pallone con effetto di uscire, colpo di testa, doppia deviazione a rete! Grande lancio di Menes, Rivas, 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 pallonetto, Rivas, Rivas, Rivas! 2 a 0, fuorigioco! Attacca da destra il Palermo, attenzione al cross, verso Brunori, sbuca per il colpo di testa di Mariano, attenzione perché sbuca dal nulla, Zanmayer, toglie il pallone a Segre, parte il lancio per Canotto, Canotto ancora all'indietro, Rivas, zona tiro, l'apertura, Menes rientra sul destro, Menes, 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 capolavoro! Di Gerevi Menes, 2 a 0, palla sotto l'incrocio dei pali! Su di Mariano, affrontato da Thiago Cionec, giallo per lui, no, rosso, rosso diretto, Thiago Cionec espulso, Recinelli, ancora Cicerelli, cross in mezzo, deviazione a rete! 3 a 0! Fabian che lotta contro due, contro tre, se la cava, poi c'è un intervento dell'arbitro, calcio di punizione, era già ammonito e se ne va sotto la doccia, Bettella!